Come si chiama il colbo? Perché questa protesta stamattina? Perché gli alberi non si potano così, queste sono vere pro-amputazioni, questa scarpata è diventata un museo degli orrori e bisogna assolutamente cambiare registro. Gli alberi sono importantissimi, assorbono il 3% dell'anidride carbonica che si produce in Italia e intercettano le polveri sottili. In questa città si parla tanto d'ambiente, però poi distruggiamo quel poco, pochissimo patrimonio verde che abbiamo a disposizione perché queste potature danneggiano seriamente gli alberi e quindi chiaramente bisogna cambiare registro. Sono anni che lo diciamo e bisogna che l'amministrazione comunale si doti finalmente di professionisti che rendano le potature un'operazione di giardinaggio e non un'amputazione.